Elena Orlando Villani, Erasmus, Vincenzo D'Alessandro, El Nino, Carmine Orlando Senior ed Elio Jet con Filippo Esposito. È già completato l'allineamento quando mancano più di 200 metri alla chiusura delle ali. Parecchio ardente Eldorado Jet, le fasi di partenza. Sbaglia Erasmus, chiusura delle ali con Eldorado Jet attaccato a largo da Elio Jet lungo i paletti Eldorado Barra. Si delineano le posizioni, rimane davanti l'allievo della Villani, 200 metri in 13 e 4. Elio Jet parcheggia in seconda posizione, Eldorado in terza. Chiudono Ebanon Jet e Del Nino. Volato il quarto iniziale in 27 e 9. A grande andatura Eldorado Jet va a completare 600 siderali. In 43 e 1 si viaggia a media di 1 e 12 scarsi. Si è un po' scatenato il figlio di Twister B e Rangona Jet che arriva a metà gara in 58 e 2. Il vantaggio aumenta rispetto a Delio Jet a cui i fianchi sposta Eldorado Barra. Poi Ebanon Jet e Del Nino che muove in terza ruota. Chilometro in 1, 12 e 3. Affievolisce un po' lo slancio il leader o magari prende fiato. Lo stappa Elena Villani. Si arriva così ai tre quarti di miglio. Ultimati in 1 e 27 con 14 e 7 di ultima frazione sul passo. Eldorado Barra è incisivo e prova l'aggancio al leader. La rottura di Elio Jet. Retta d'arrivo Eldorado Jet in vantaggio. Arriva Eldorado Barra, arriva El Nino, arriva Ebanon Jet. Arrivano tutti. Lotta serrata, va di dentro Ebanon Jet. Allarga El Nino, Ebanon Jet lungo i paletti attacca Eldorado Barra che però tiene a bada gli avversari e va a vincere molto ma molto bene anche oggi nei confronti di Ebanon Jet e Del Nino. Media di 1, 13 e 4 per il Sauro da Brillantissim e Sister Danny Barra. I colori della Horizonte Resort e il training di Vincenzo Castiglia. Soprattutto la guida ispirata di Ciro Ciccarelli. Tre cavalli molto vicini. Eldorado Barra su Ebanon Jet e Del Nino. Grazie. 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 Grazie.